Giorgio Lunghini è uno di quegli economisti che non si appoggia fideisticamente alle teorie ma continua a indagarle ed è per questo che lo abbiamo invitato. Quali caratteristiche fanno di questa crisi una crisi completamente diversa da quelle che questo secolo ha già vissuto? Quello che differenzia questa crisi da quelle precedenti è il modo in cui il capitale ha risposto alle crisi. La crisi del 29-30 che è l'esito della crisi della lunga depressione della fine ottocento, la risposta a quella crisi fu di doppia natura in Europa e nazifascismo. Negli Stati Uniti Roosevelt è una forma embrionale di kinesismo. Questo per anticipare un punto. Dalle crisi soprattutto e normalmente in Europa si esce da destra ma su questo torneremo. Ci vogliono 20 anni dai 30 agli anni 50 per uscire in vari modi dalla crisi del 29-30. Le cose vanno ancora bene per il capitale fino a metà degli anni 70 e di lì la risposta fu di varia natura soprattutto negli Stati Uniti. Si cominciò a cancellare come tu stesso hai ricordato il sistema di Bretton Woods. Si abolirono leggi che in qualche modo valevano a moderare la brutalità del capitalismo americano soprattutto e così via. Ciò non bastò e ci fu poi una serie di piccole crisi. La costante del periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale fu la globalizzazione. La globalizzazione è una cosa che ha commosso molti ma in realtà era stato uno straordinario tentativo dei singoli paesi di scaricare sul vicino i problemi che aveva all'interno. Siccome la terra è rotonda a un certo punto la crisi è rientrata nei paesi che avevano mosso la globalizzazione e si scatenano le risposte più recenti. Le risposte più recenti che contraddistinguono questa crisi sono molte naturalmente ma voglio ricordarne due. Una, una crescente diseguaglianza nella distribuzione dei redditi e della ricchezza. Questo è vero sia tra paesi che all'interno dei paesi. Detto brutalmente i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri diventano sempre più poveri. Sul punto tornerò, il punto non è di tipo morale o moralistico, è un punto sostanziale. L'altro è una crescita fuori misura patologica della finanza. Il capitalismo senza finanza non può vivere. Occorrono le banche, occorre una certa attività finanziaria e così via. Però negli anni recenti la finanza è diventata non solo fine a se stessa ma è diventato un gioco in cui non solo nessuno guadagna. La finanza è un gioco a somma zero, quindi c'è sempre uno che vince e l'altro che perde. Negli ultimi anni la finanza è diventata un gioco in cui perdono tutti, anche i poveracci che non hanno mai fatto speculazione finanziaria. Anch'io uso una metafora medica. La quasi totalità dei governi usa delle ricette per curare l'ammalato, cioè l'economia, che ne aggravano le condizioni. Chi e che cosa impedisce una cura diversa? Se lo sapessi fornirei qualche consiglio a chi di dovere, ma non lo so. Secondo me c'è una qualche componente suicidaria in comportamenti di questo genere. A meno che non si pensi, io qualche volta lo penso, che non ci sia un disegno sovranazionale, governato da pochi grandi attori, quello che Chomsky chiama il senato virtuale, grandi attori rappresentati da grandi banche, istituzioni finanziarie, eccetera, eccetera, che pensano, dopo aver contribuito a realizzare ciò, che i governi nazionali siano finiti e che quindi occorre una qualche direzione sovranazionale, ovviamente nelle loro mani, che governa il mondo in quale direzione non lo so. Ci sono esempi di governi, diciamo così, virtuosi che sono riusciti a promuovere contemporaneamente crescita ed equità? C'è un modo indiretto di governare i parlamenti nazionali che è quello di criticare duramente le politiche economiche che questi governi intraprendono. quello che è successo in Spagna e quello che sta succedendo in maniera drammatica in Grecia lo dimostra con molta chiarezza. In questo modo i parlamenti nazionali vengono scavalcati e in qualche modo ricattati impedendo loro di realizzare quei disegni che vorrebbero e in qualche modo costringendoli a rinunciare a qualcuno degli strumenti di cui disponevano, come è avvenuto in Italia, nel momento in cui si è accettato, prima deciso o finto di decidere, di mettere in costituzione il pareggio di bilancio. Lo strumento fondamentale di qualsiasi democrazia progressiva è la libertà di spendere come si vuole, e entro limiti ragionevoli, risorse pubbliche. Se ciò viene impedito in nome del pareggio di bilancio vuol dire che i governi si sono autocastrati di uno degli strumenti fondamentali che andava usato naturalmente con molta intelligenza e moderazione, il che in passato in Italia non è avvenuto, ma che è indispensabile. Mi sono segnato i capisaldi del neoliberismo, welfare ridotto, precarietà del lavoro, sistema maggioritario, individualismo, far credere che la politica è chiacchiericcio e non è decisione, sono valori di destra, perché buona parte della sinistra invece si è adeguata? Io faccio parte intellettualmente nella mia storia della sinistra, ma non so rispondere a questo, per timidezza, talvolta per ignoranza e sicuramente anche per insipienza, per esempio l'assoluta incapacità di allevare nuovi ceti dirigenti. C'è una data simbolo di nascita del liberismo, la fine del sistema di Bretton Woods, il golpe in Cile, Clinton che abolisce la legge Glass-Steagall? Tra le date recenti una è Bretton Woods che era stata ispirata almeno in parte da Keynes e la cancellazione della siga l'acta. Quando nasce il liberismo? Il liberismo nasce a fine del Settecento, quando il ministro Colbert riceve un mercante che si chiamava Legendre e Colbert chiede a questo Legendre, cosa può fare il governo per aiutarvi? A voi mercanti? E Legendre risponde, nulla è sefer, lasciate fare a noi. Quindi il liberismo risale a molto tempo fa, a più di due secoli fa e non è neo, ma è sempre quella roba lì. Il welfare state è stato massacrato prima in nome del liberismo, adesso a causa della crisi economica. Ma può una società vivere senza Stato sociale? Uno Stato democratico no. Cioè uno Stato sociale significa premessa per uno Stato democratico. cioè se non c'è eguaglianza e giustizia sociale uno Stato non è democratico. Senza democrazia economica non c'è democrazia parlamentare, a mio parere. Democrazia in senso proprio, sostantivo. Sì, può sopravvivere il Parlamento, ma il Parlamento è regolarmente scavalcato di questi tempi. Si procede per decreto, si mettono in Costituzione norme che non dovrebbero mai entrarci senza un serio dibattito. Viene nominato il Presidente del Consiglio senza sostanzialmente interpellare in maniera propria le forze politiche. Quindi c'è qualcosa che non va nel nostro paese. Ricorderà il film di Nanni Moretti in cui il protagonista, rivolgendosi alla televisione, diceva di qualcosa di sinistra. Bene, dica a lei qualcosa di sinistra. Ma credo che quel che ho detto finora lo sia.